E' tempo di Australia contro Brasile, quest'oggi è il torneo di Tremonti. Australia con Marino, Aris, Federico, Paladino, Puleo, Platania, De Salvo, Ieni, Gentiluomo, De Maria. Brasile con Misa, Cacciola, Girone, Manganaro, Venuto, Venuti, Santoro, Boncorto, Stimoli e Pastura. Primo pallone per l'Australia. Venuti, scambia con Venuto, Sincunea, vince il rimpallo, calciaforte ma non trova la porta, primo squillo del Brasile. Venuto da fermo, centra in pieno Marino. Platania, vede l'inserimento di De Salvo, si gira, Pastura ispaccata, palla che si impegna, ancora pericolosa. Pastura ci mette il pugno. Scambio in difesa del Brasile, occhio a Platania con l'occasione ma Pastura risponde alla grande. Pallone in mezzo per Misa, si allunga ma non trova lo specchio. Corner battuto velocemente di prima intenzione, arriva un'altra occasione a Australia. Ancora angolo sul secondo pallo per Paladino che si coordina ma non crea problemi a Pastura. Santoro punta la difesa, ancora Santoro allarga per Girone di prima, il palo a dire di no al Brasile. Santoro tutto solo, ancora Santoro sorprende tutti e porta in vantaggio il Brasile sbloccando il match. Girone allarga per Venuto, aspetta l'inserimento, mette in mezzo, palla adegliata per Venuti, non trova il gol. Boncordo sulla destra per Venuto, profondissimo per Venuti, da Venuto a Venuti, arriva il 2-0 Brasile. Pallone messo in mezzo, respinge la difesa, arriva Ieni, gran botta su Boncordo, poi raccoglie Pastura. Palla arretrata, tocca in avanti per Venuti che si gira, Marino la alza in angolo. Angolo di Venuti, pallone in mezzo, colpo di testa che termina di un soffio a lato. Punizione Australia, va Gentiluomo col Mancino, ma era già posizionato lì Pastura. Palatino, avanza palla al piede, ancora Palatino, li superi tutti, sempre Palatino sul fondo. Sarebbe stato un grandissimo gol. Si riparte con il secondo tempo. Venuti, fermato, arriva Boncordo, alza la testa, calcia e per poco non la trova. Palla profonda per Santoro, c'è Misa Solo, insiste Santoro, rientra, libera il Mancino e il muro dell'Australia a dire di no. Attenzione alla palla recuperata da Santoro davanti al portiere col Mancino, non sbaglia, buca la porta e fa 3-0 Brasile. Vieni, è solo, esterno fantastico per De Salvo che calcia, ritorna in partita all'Australia con la firma di De Salvo. Punizione, Platania forte, esterno della rete. De Salvo, danza sul pallone, tocco per Palatino di prima, il palo che sfortuna qua per l'Australia. Tocco profondo, Ieni si gira, ancora il palo, ancora Pastura, palla che non entra. De Maria, va via, ancora De Maria per la porta, Pastura le spinge, chiude la saracinesca. Controviede Brasile, Girone, va via in campo aperto, ancora Girone con la punta, fa la voce grossa a Marina in uscita. Boncordo da lontanissimo, tiro deviato. Ancora Praterie per il Brasile, Santoro scappa in velocità, ancora Santoro con la punta, morbido morbido, chiude nuovamente i giochi e fa 4-1. De Salvo tenta ancora l'Australia, tocco e Mancino di Ieni che sfiora il palo ed esce. Pallone in mezzo, De Salvo con spazio, alto. Venuto, recupera palla, 3 contro 1, ancora Venuto col destro, centrato Marino, ancora azione buona. Santoro favori un avversario, Venuto, extra pass per Misa, ha avuto finale di Misa al match, 5-1 Brasile. Si lotta in mezzo al campo, esce vittorioso, Paladino, si invola, ancora Paladino prova all'esterno, Venuti, chiude tutto e salva. Ancora Brasile che vuole attaccare, palla per Boncordo, chiuso ma non c'è più tempo, vittoria Brasile sull'Australia per 5-1.